Ciao, percoglio, come stai? Eh, io mi sento un po' sottito, abito proprio sotto il campanile di San Pietro e spesso mi svegliono le campane. Qui si sta, si sta bene nella rilassatessa, nella gioia. A Santa Marta? C'è ne fa, mentre recitavo il mattutino, si è appoggiata una colomba su una fontana e ha lasciato un bisognino. Sempre cose della natura. Beh, tu anche hai colombe che si poggiano sul tavanzale della finestra? Si posano le colombe e anche le colonnaie si posano sul tavanzale e fanno il bisognino. E ti saluto e ti rinnovo la mia penetrazione. Ti rinnovo la prosperità. Salute. Salute e prosperità. È troppo forte, guarda.